Sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, il lavoro sta proseguendo, io credo che comunque di Bertolaso abbiamo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché è un progetto quello della vaccinazione assolutamente importante e rilevante e quindi continuerà a lavorare per la regione Lombardia e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Resta fisicamente sicuramente per ancora del tempo e comunque continua, come ho detto prima, a collaborare con la regione, probabilmente sarà meno fisicamente presente ma continuerà a seguire lui tutta la campagna vaccinale, ecco, adesso qui e qui sette giorni alla settimana, dopo magari ce ne sarà un po' meno di giorni, però lui continua ad essere e sarà sempre il consulente sulla vaccinazione. Per me Guido Bertolaso può essere tutto perché è una persona che io stimo tantissimo, per cui io credo che la macchina che lui ha predisposto stia funzionando molto bene, ma credo anche che una personalità come Bertolaso serva sempre.